Ciao a tutti, abbiamo creato questo video informativo che mostra come assemblare e installare lo strumento SV307. Innanzitutto, svitare il blocco principale della custodia impermeabile. Afferrare con una mano l'involucro superiore coniforme e girare il cilindro inferiore in senso antiorario, rilasciare e scollegare. Svitare le quattro viti e staccare il coperchio di plastica inferiore dell'SV307 per accedere alle schede SIM e microSD. Inserire la carta SIM e collegare l'antenna wireless. Accendi l'SV307 premendo contemporaneamente i tasti Shift e Start Stop. Verifica la connessione con SvanNet. La corretta connessione con SvanNet è indicata dall'icona SvanNet sul display. Se necessario, collegare il cavo di alimentazione esterno e il cavo SC316 alla presa multifunzione. Far passare i cavi attraverso il foro con la guarnizione alla base del rivestimento inferiore. La grande cuffia antivento è estremamente efficace nella riduzione degli effetti del rumore del vento, anche a velocità del vento elevate. Le punte di metallo proteggono la stazione dai volatili. Lo strumento può essere facilmente calibrato sul campo utilizzando un calibratore acustico e può eseguire anche un controllo del sistema brevettato con una sorgente sonora di riferimento incorporata che produce livelli di 100 dB a 1 kHz. Attaccare il calibratore acustico. Eseguire la misurazione della calibrazione con l'uso del pannello di controllo dello strumento. Svantec innovazione continua A presto di